musica musica benvenuti una forchettone una padella ahah 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 non vado di nuovo ahah schifo ahah ahah me la da fare una pisciata uno e due non so chi dire ahah fantastico un'altra cosa importante cioè prega noi ahah puoi parlare? un'antica ricetta andalusa era pollo con cozze e pollo era un'antica ricetta che mi diede una mia prozia ma come è andata un po' l'accendo ahah vado vai allora non è vero mettiamoci un po' di pecorino ahah di onco di onco ahah ahah ma le penne le hai tolte? eh? no buono no 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 no